In Tunisi, il Partito Radicale Non Violento, Trasnazionale e Transpartitico ha tenuto il suo Consiglio Generale. Il Partito Radicale Non Violento, Trasnazionale e Transpartitico è un soggetto politico internazionale che ha nella non violenza il suo punto di riferimento e che in questi anni ha raccolto la domanda culturale, politica, anche umana, di quasi tutti quelli che sono i popoli, le persone, gli individui che si battono nei loro paesi in nome della libertà e anche del diritto di espressione. Potrà sembrare strano questo nostro essere a Tunisi. Tunisi è stata per noi radicali una tappa importante perché ha segnato il primo tentativo di andare a fornire una sponda a una domanda di libertà che il popolo tunisino ha espresso con una rivoluzione definita la rivoluzione del Gelsomini ed è bene dire una rivoluzione il cui esito è ancora oggi del tutto imprevedibile. Il dato che emerge di più è che quell'appuntamento ha fornito a quanti in questo momento sono le nuove realtà della nuova Tunisia una speranza e una progettualità. In tutt'uno ha segnato come i cambiamenti nel mondo non sono soltanto legati alla azione di governance, cioè di governo delle situazioni, ma anche alla volontà del cambiamento dell'ordine temporale. La Tunisia come fonte evocativa di una mappa, quella del Nord Africa, che ha visto negli ultimi mesi coinvolto l'Egitto, la Libia, in parte l'Algeria, anche se questi aspetti per quanto riguarda il Marocco, lo Yemen, sono tutti connotati, il Bahrain, da articolazioni profondamente diverse le une dalle altre, ma tutte segnate da una evidente forma di frattura che si è venuta a determinare come ricerca di spazi di democrazia e cioè come una esigenza di un rapporto generazionale che segna anche la fine di un ciclo storico. Come detto evidentemente non tutto segna la certezza che andiamo incontro ad un sbocco positivo, ma è indubbio che la fermentazione che noi abbiamo trovato lì è servita sostanzialmente a dettare una filosofia di approccio ai processi di cambiamento nel mondo che ha come fonte di ispirazione gli individui, le persone, le domande di libertà e non il controllo attraverso i vertici che i fatti hanno documentato essere delle vere e proprie dittature che come obiettivo primario avevano la limitazione appunto delle libertà. La cosa più stupefacente è che il mondo dell'informazione nel nostro paese ha decisamente accantonato questo evento, eppure ce n'erano di argomenti che potevano essere messi all'ordine del giorno, per esempio con questo nostro guardare al sud dell'Europa abbiamo segnato una tappa importante per quanto riguarda alcuni dei temi pure centrali della nostra vita, si parla tanto di immigrazione, si parla tanto di cicli biblici di immigrazione, dimenticando anche però alcune verità sostanziali, tutti i fatti, i documenti anche del realismo, del cinico realismo che ci caratterizza segnano per esempio il fatto che l'intera Europa avrà bisogno di qui ai prossimi anni, al prossimo decennio di circa 50 milioni di immigrati, questo già segna come risulta essere ipocrita anche la formula secondo la quale il controllo dell'immigrazione così come viene attuato anche in modo odioso segna una sorta di tutela dei nostri interessi. L'Europa oggi vive una situazione drammatica perché sembra avere esaurito le sue spinte ideali ed è una stessa Europa che segna anche una sua incapacità a leggere una nuova strategia geopolitica, quella che abbiamo cercato con umiltà ma anche con determinazione e con giusta ambizione di segnare in questo appuntamento tunisino che serviva anche ad evocare una traiettoria, quella che noi abbiamo definito Euro-Mediterranea che sembra essere non tanto sul piano della mera utopia ma anche nutriti della speranza dell'utopia, una prospettiva alla quale potrebbero guardare tutti coloro che cercano di mettere in parallelo non in chiave di conflitto ma in chiave di interessi comuni domande di libertà, prospettive strategiche per il vecchio continente, traiettorie e centralità di sviluppo e anche capacità di segnare sul terreno della non violenza la formula con la quale il conflitto può essere scritto sul terreno istituzionale e essere scritto sul terreno della partecipazione consapevole di tutti. Noi come piccolo movimento non violento ma anche con grandi valori ideali così come ci vengono attestati delle battaglie che abbiamo realizzato un po' in tutto il mondo cerchiamo di dare una prospettiva strategica ad una ipotesi sempre più difficile da leggere in chiave di pace ma che in realtà nella pace può trovare una risposta solo se esistono strategie politiche che sappiano fornire attraverso la non violenza una traiettoria istituzionale, politica e democratica alla sempre più vasta esigenza che nel nome della libertà manifestano tutti i popoli, gli uomini, le donne, i giovani del mondo.